Il sorgere di un nuovo giorno offre la possibilità che la trappola di Joe fornisca le calorie che servono ai due dispensi. La trappola è caduta. Guardate un po' di... C***o. Ma chi è? Sì. Tutto qui. Il pelino ha lasciato in te. Un maledetto umano si è mangiato il mio cattolo. L'ho completamente tipo... Un maledetto. Un maledetto. Un maledetto. Un maledetto.